Salve a tutti gli amici di TechDifferent, siamo qui con la recensione del Parrot Mini Drone Airborne Night Drone Blaze, un drone che come vedete ha anche dei led sulla parte frontale. Benissimo, quello che vedete è il contenuto della confezione, partiamo dalla batteria di 550 mAh con ricarica veloce, il cavo USB micro USB per ricaricarlo, una serie di adesivi con anche il libretto di istruzioni, ovviamente per il primo utilizzo di questo drone. Ora andiamo a vedere più in dettaglio come è fatto questo drone. Benissimo, vedete che questo drone ha i roll bar a protezione delle eliche rispetto ai precedenti, qui vediamo il Marco Parrot con la batteria che è già stata inserita, batteria che ha la ricarica veloce, dura circa 8 minuti e in ricarica circa 20 minuti per ricaricarla. Qui di fronte abbiamo i due occhi che hanno due led che sono autoadattivi, si adattano in base alla luminosità. Passiamo ora alla parte sottostante del drone con la fotocamera da 3 megapixel, risoluzione 640x480 e un microfono. Per concludere, la confezione come la apriamo troviamo il drone che ha un peso di circa 65 grammi, quindi molto leggero, come vediamo vediamo i roll bar, l'ingresso micro USB per la ricarica della batteria che è già inserita nel drone, vediamo appunto la batteria da 550 mAh, eccola qui, vi faccio lo zoom, eccolo qua, poi abbiamo il libretto di istruzioni con gli adesivi per personalizzare il nostro mini drone e poi infine il cavo USB, micro USB. Poi sulla scatola vediamo anche tutti i droni disponibili, i mini droni disponibili da parte dell'azienda. Il prezzo di questo drone è all'incirca di 106 euro su Amazon. Sondi. Sondi.